Star Wars Just The Tip Ok, cominciamo. Ci sono 4 modalità di gioco, 2 non proprio. Classic e Score Attack. Allora vi farò vedere un paio di partite di Classic e una di Score Attack, è un po' più lunga. Ok, allora, Classic. 5 vite. Innanzitutto cominciamo da questo. Quello è un narvalo. Sì, è un narvalo. È tipo una foca, però c'è uno spuntone. Esiste veramente, anche se non l'ho mai visto. E si può personalizzare. Io ho già il mio narvalo preferito. Se solo mi ricordassi cosa aveva il corpo. Ah, scudo. Ok, aggiungiamo un po' di multiplayer. Allora, spiego brevemente in cosa consiste il gioco. Lo vedete il cuore che pulsa? Praticamente per vincere dobbiamo eliminare la vita degli altri colpendo il cuore con la punta del naso. Credo. Sì? Ok, va bene. Allora, cominciamo con la Classic. Allora, noi siamo quello in alto a sinistra. Brutta posizione dove cominciare. E dobbiamo muoverci per andare a colpire quelli là. Però tipo i comandi sono improponibili. E ogni volta che uno si avvicina per colpire un altro, il tempo rallenta. No, 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 no. Non mi avrai mai. Vai, 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 vai. Preso. Mi sono messo in una brutta situazione. Vai via, vai via, vai via. No, 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 no. Vai via, vai via. Aia. Mi ha preso. Forza, 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 forza. Vai. Ok. Ok. Brutta posizione. Bruttissima posizione. Fuga tattica. Mi impiazzo qua. Ok. Vai, 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 vai. Aia. Mi incastro sempre contro le pareti. Au. Ok Vai 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 Quello lì è girato No si è rigirato Ti colpirò lo stesso Wow Che schivata che ho fatto Vieni qui Vieni qui Vieni qui Preso Vieni qui I comandi sono V ASD per muoversi Cioè V per andare avanti A e D per spostarsi E S per tauntare Non chiedetemi a cosa serva Però si può fare Si può fare Oh uno è stato eliminato Cosa sta facendo quello lì rosa 360 bitches È entrato in 360 mod Minchia Ok si sono paralizzati Wow Si però io Se evito di fare ste cagate Buono Due vite io Lui una sola Vai vai Minchia No 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 Una vita pari Nooo Mi hai eliminato Ok Cambiamo il livello Facciamo Uno che non ho ancora fatto Test chamber Non lo so Oh merda Salve Non vorrei che lei Si incavolasse con me Ma vorrei Toccarle Quel cuoricino Che porta sul vento Eccolo lì Quello La musica di questo gioco È molto bella Cioè se si mette sulle cuffie E si ascolta A volume alto Proprio Dà l'idea del gioco Ti immerge nel gioco Via 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 Preso Aia Anche loro hanno preso me però Lasciami stare Lasciami stare Vieni qui Preso Via 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 No Allora questo gioco è In multiplayer locale Nel senso che si può giocare Solo se si hanno le persone di fianco Per quello che non l'ho registrato Con il giorno Con altri Perché sinceramente Nooo Mi hanno eliminato subito Perché sarebbero dovuti venire qui Io Io da loro Quindi Per ora Vabbè lo faremo magari più avanti Comunque multiplayer locale O al massimo con la cpu Come questi Vediamo chi vincerà di questi Ok Sono tutti a una vita Attenzione Viola versus arancione Li vediamo che Combattono Viola fa una mossa sbagliata E viene sconfitta da arancione Ok Faccio vedere l'altra modalità In questa bisogna colpire dieci volte Oppure colpire cinque volte O tre volte Oppure al termine del tempo Facciamo Ma si cinque minuti Va bene Ma Però cambiamo lo scudo Perché non funziona Non ci protegge da niente No quelli Questi qui penso che siano gli sviluppatori Però non ho la certezza Dog Burrito Vada per il burrito The wall No the wall L'ho già provato Quando Bosti Oh Merda Avevo già provato anche questo Tipo improponibile Perché ci sono quelle Sfere Preso Vai 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 Datemi i punti Il telefono suona Merda Che brutta posizione Si sono messi tipo Apposta Aia Non devo dare i punti alla gente Vai 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 Preso Vai 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 Lo posso prendere ancora Lo posso prendere ancora Preso Ora viola Tocca a te Vieni qui Vieni qui Uuuu Si sono presi fra di loro E qua Sono incastrato Del cu Del cu Aia No 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 Vai burrito Proteggimi Il potere del burrito E Via Merda Ce l'ho quasi a prendere Quell'arancione al volo E' difficissimo Controllare Sti cosi Preso Ok Io non posso vedere Lo score Ma non penso Di essere sotto di molto Anzi no Sì vantaggio L'ho visto adesso Sei contro quattro Dell'arancione Ok Via qua Via qua Vai adesso ne prendo uno Preso Vai 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 Double kill Double kill No Tutti che stanno massacrando Sto povero azzurro Ha due punti E' ultimo Azzurro Mi spiace Preso Vai 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 con un secondo colpo Certa Vai 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 Curva No Mi ha bloccato col suo Spadino Non so come chiamarlo E si scivola 360 Ok ora Vai Curva Preso Ancora 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 Fatti colpire Merda Mi hanno combizzato Non è Ti combizzano Sti cosi Guarda come se lo spingono via Se lo stanno portando dietro Non ho ancora capito se si può andare all'indietro in sto gioco Perché ho visto prima che una cpu lo faceva però Non so se si può fare Comunque lo trovate su steam Ed è veramente divertente Poi se siete tra amici Mamma mia È una roba veramente Double kill Un vantaggio Aia Devo smetterla di fare così Ok Vai che ti prendo Ti prendo No Preso Preso due volte Eh però Il blu continua a prendere Aia blu È il terzo colpo che mi frigge Preso Au Preso verde Eh verde Verde sono io Giallo Stavo guardando la persona sbagliata Cioè la persona Il narvalo sbagliato Comunque Se avete visto una puntata di Futurama C'è un narvalo Quello dove tipo Fry torna indietro nel tempo Qualcosa di che O cosa sarebbe successo Se Fry non fosse Ah no 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 Fry torna indietro Da tipo dal 3000 Torna al 2000 E Adotta un narvalo Di nome Lela Un'arma del genere Preso Ok No No Non riesci a mi andare Vai 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 Questo era No Era un colpo facile Vieni qui Dannazione Oh blu è in rimonta Blu è in rimonta In una maniera assurda Preso No 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 Vai blu Colpiamo blu No Perché Ho stortato il coso Beh ho preso arancione No Ah si Lo colpisci tu Allora lo posso fare anch'io Uiii 360 Cosa è successo Preso blu Wow Brutta posizione Mai stare a pancia all'aria Bel casino Aia Danna Blu sta rimontando E non so neanche quanto tempo manca Non penso molto però Sono bloccato Mi stanno combizzando Mi ha Due colpi Solo girando su se stessi Vai Mancano sette secondi Vieni qui blu Ti affronterò Come si affronta Qualcuno Un secondo ho vinto Eeeh Il burrito vince Il burrito vince Mamma mia Ok Questo era Star Wars Se il video vi è piaciuto Invito a lasciare un bel mi piace E spero di riuscire a registrare Eeeh Dead Rising Entra settimana prossima Comunque vedrete anche Una nuova serie Che ho fatto in collaborazione Ma Lo vedrete Tra poco Probabilmente Quindi A un prossimo Prossimo video Bye bye